Ciao carissimi, oggi il 2 maggio del 2024 e io condivido con voi il solito approfondimento giornaliero dalla zona dell'operazione militare speciale, oppure come ormai molti chiamano questo evento, la guerra tra la Russia e l'Occidente collettivo sul territorio dell'ex Ucraina. In questo video io vi racconterò delle notizie più importanti avvenuti nelle ultime 24 ore in prima linea e anche nelle retrovie. Nella prima metà della notte le forze armate russie hanno lanciato attacchi missilistici su obiettivi militari a Odessa e a Kharkov. A seguito del bombardamento di Odessa è scoppiato un potente incendio con detonazioni secondarie che hanno confermato la distruzione di un magazzino con le munizioni per i lanciatori multipli HIMARS e missili recentemente forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina. Le autorità ucraine hanno annunciato la distruzione del deposito di smistamento postale utilizzato per risolvere i problemi logistici delle forze armate ucraine. Questa è l'ennesima conferma che la posta civile ucraina ormai da anni viene utilizzata per la logistica militare. Vi ricordo che sul mio canale privato Telegram io ho già toccato più di una volta questa tematica condividendo i video e le foto dei camion di posta civile dell'Ucraina che si chiama Nova e Apocita e in questi camion, in questi mezzi sono stati trasportati sia i militari sia le attrezzature sia le munizioni, addirittura venivano infilati anche i blindati trasporto truppe, blindati corazzati cingolati di tipi diversi provenienti dai paesi della NATO. Quindi evidentemente i russi per l'ennesima volta hanno scoperto che in uno dei depositi di servizio postale ucraino si trovano i missili e altre munizioni che vengono utilizzati per colpire le regioni russe e quindi hanno bombardato questi luoghi. I video sono impressionanti, io li ho pubblicati sul mio canale privato Telegram, si vedono i colpi missilistici che precipitano su diversi obiettivi nella città di Odessa, incendi, si vedono anche detonazioni secondarie e quindi è chiaro che si tratta di un luogo dove venivano depositati le munizioni, non si tratta di un luogo dove si trovavano semplicemente le lettere e i pacchi che i civili spediscono. Se siete interessati io come sempre vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video così vedrete quello che è successo realmente con i vostri occhi. Le regioni russe confinanti con l'Ucraina hanno rispinto il raid massiccio dei droni UAV ucraini lanciati dal regime di Kiev nella regione di Smolensk, il governatore ha riferito di un attacco a un'infrastruttura energetica civile nella regione di Rostov, nell'area di Novoschatinsk e Kamensk-Schatinsk sono stati distrutti due droni UAV ucraine, nella regione di Bryansk tre droni sono stati distrutti nei pressi del distretto municipale di Staradubski e del distretto di Pogarski, nella regione di Ariol, nei distretti di Glasunovski e Sverdlovsk, le infrastrutture energetiche sono state purtroppo danneggiate dopo il colpo dei droni UAV ucraini che i russi non sono riusciti ad abbattere, nella regione di Kursk un drone UAV ucraino è stato abbattuto nel distretto di Obianski e le linee elettriche sono state danneggiate nel villaggio di Ponere per via della caduta di un altro drone abbattuto e che purtroppo è precipitato sulle linee elettriche. Nessun cambiamento significativo cari amici in direzione di Kherson, l'esercito ucraino sta intensificando bombardamenti con munizioni di artilleria a grappolo nella zona di Krinki e utilizza attivamente i droni FPV su tutto il fronte, cerca anche di appiccare il fuoco nelle aree forestali sulla costa russa con munizioni incendiarie. I russi in questo settore colpiscono la costa ucraina e le concentrazioni dei militari ucraini a Krinki e nei pressi del ponte Antonovsky utilizzando l'artilleria in questo settore come ho già spiegato diverse volte prima i russi non avanzano perché stanno attendendo che nei settori più al nord la linea viene raddrizzata eliminando la logistica ucraina prendendo soprattutto sotto il controllo Zaporogia che per la direzione di Kherson è molto importante. Sul fronte di Zaporogia intanto nonostante le dichiarazioni di numerose fonti autorevoli e i rapporti militari riguardo la cattura di Rabotino continuano i pesanti combattimenti nella parte nord-occidentale del insendiamento. I russi controllano praticamente tutto il villaggio però l'esercito ucraino cerca di contrattaccare dalla periferia nord-occidentale quindi ancora non si può parlare del totale controllo di questo villaggio. Anche il ministero della difesa russo non si affretta ad annunciare la liberazione del villaggio di Rabotino evidentemente attendendo che il nemico viene respinto fuori dalle periferie. Ci sono battaglie in corso a nord-ovest di Verbavoie. L'esercito ucraino sta minando attivamente la zona usando i droni rallentando l'avanzata delle truppe russe che tuttavia mantengono l'iniziativa in questo settore e stanno andando avanti. In direzione Vremia segnalano l'avanzata delle forze armate russe nella zona di Urajain. Le unità avanzate russe si stanno consolidando nella parte meridionale del villaggio. Hanno già sfondato la prima linea e adesso stanno attaccando la seconda linea della difesa ucraina che si trova all'interno del villaggio. I bombardamenti con le bombe FAB, con i moduli autonomi plananti UMPC, vengono effettuati sulle retrovie ucraine nell'area di Makarovka. In questa zona i russi distruggono soprattutto le possibilità all'esercito ucraino di eseguire i rifornimenti efficaci con la logistica e per questo i russi utilizzano le bombe autonome plananti. Nonostante i combattimenti a ovest di Nova Mikhailovka in direzione sud di Danetsk, anche le mie informazioni sulla cattura di Paraskovievka da parte delle forze armate russe si sono rivelate affrettate. Purtroppo al mattino durante lo scontro in avvicinamento le unità russe non sono riuscite ad avanzare e a prendere piede nel villaggio. Comunque i tentativi continuano, gli ucraini si difendono con i droni FPV, mentre a Krasnagorovka continuano i combattimenti nella parte centrale del villaggio vicino all'impianto antincendio. In questo settore i russi stanno muovendo in maniera molto dinamica. Nel sud della direzione Prakovsky, perdonatemi, le forze armate russe stanno avanzando verso Netailova tagliando la sporgenza anteriore lungo la linea Pervamaiska e Nivelska. Sulla sporgenza di Aceretina ieri le forze armate russe hanno fatto irruzione al villaggio Arkhangelsk, preso sotto il completo controllo il villaggio Salaviovo e a nord ovest di Aceretina i russi hanno anche allargato notevolmente la zona di controllo, quindi anche le fonti ucraine ammettono che in questa direzione i russi stanno avanzando con una dinamica molto efficace e loro non riescono a creare nessuna barriera difensiva seria, sono costretti di indietreggiare o in alcuni casi addirittura fuggire per evitare di essere prese nelle sacche tattiche. In direzione di Ciassofiare il microdistretto orientale è stato preso dai russi da sud, le forze armate russe hanno anche raggiunto il canale idrico Seversky-Danez-Danbas, i combattimenti sono ferocissimi, i russi bombardano questo territorio utilizzando le bombe FAB con moduli autonomi plananti UMPC, bombardano anche utilizzando l'artilleria a razzo e riescono a danneggiare notevolmente anche la logistica ucraina. Continua il bombardamento della regione di Belgorod, purtroppo il villaggio di Krasna, il distretto urbano di Szebekensky, il villaggio di Asnaizori, il distretto di Belgorod, il villaggio di Vasnisenovka, il distretto urbano di Szebekensky, sono stati attaccati dalle forze armate ucraine utilizzando i droni UAV, il villaggio Starehuter, distretto urbano di Valuisky, è stato colpito dal fuoco delle forze armate ucraine che hanno utilizzato l'artilleria a razzo. Nelle regioni di Kursk sono stati bombardati Elisavetovka nel distretto di Glushkovsky, il villaggio di Krupez e Kosano nel distretto di Rilsky. Nessuno dei residenti è rimasto ferito. Durante il giorno i droni sono stati neutralizzati da apparecchiature di guerra elettronica vicino ai villaggi di Gardevka, distretto di Karinevsky, Gornal, distretto di Susansky, Begosha e il villaggio di Stareh e Nikolaevka, distretto di Rilsky. Molti altri droni UAV sono stati distrutti nel villaggio di Tiotkino che si trova proprio vicino alle linee con la frontiera tra Russia e Ucraina. Ieri evidentemente per disturbare i festeggiamenti di 1 maggio i militari ucraini hanno sparato 131 colpi di munizioni e di artilleria contro la popolazione civile della regione di Donetsk. Un civile è stato ferito a Gorlovka purtroppo. Queste sono le notizie che sono avvenute negli ultimi 24 ore. Se volete approfondire, volete vedere i video perché sono successe tante altre cose interessanti. Ad esempio i russi hanno distrutto, hanno trovato e distrutto due stazioni di lancio statunitensi Himars nella giornata di ieri. Stamattina i russi hanno distrutto un altro caro armato statunitense Abrams e hanno catturato un interessante blindato statunitense Bradley molto costoso che è stato creato appositamente per i correttori di fuoco e di artilleria, un blindato che costa molti soldi, che ha un'apparecchiatura tecnologica moderna statunitense, è stato in pratica abbandonato dai militari ucraini che sono scappati senza neanche combattere. Infatti il blindato non ha portato nessun tipo di danno e i russi l'hanno catturato in perfetto stato di funzionalità. Probabilmente adesso lo studiano e poi lo manderanno di nuovo, come altri mezzi lo manderanno in questa esposizione dei mezzi militari della Nato catturati a Mosca. Questo dimostra anche non volontà dei militari ucraini di partecipare agli scontri diretti con l'esercito russo, addirittura se hanno i mezzi preferiscono di abbandonarli e scappare pur di evitare di avere un conflitto a fuoco diretto. Se volete approfondire queste notizie e anche molte altre notizie che riguardano il mondo, ciò che succede nella politica, nell'economia, io pubblico ogni giorno centinaia di articoli, video, interviste, alcuni anche articoli miei che io scrivo riflettendo su qualche situazione internazionale interessante. Se volete approfondire tutto questo che i media occidentali sicuramente non vi racconteranno per via della censura, perché strumentalizzano le notizie, perché semplicemente non vi vogliono raccontare di alcuni eventi, io vi invito come sempre di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie di Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle, in questo libro vi racconto le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questa tematica io vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per il vostro sostegno e per i vostri commenti, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.